Sono il maestro Muten da Dragon Ball E io Videl sempre da Dragon Ball Un boia Un boia è generico Un po' personal e un po' preso da Oga Mirais Sono la versione made di un personaggio di un videogioco chiamato Genshin Impact e il personaggio è Utao C'è un mondo che va dai fumetti ai cartoni animati dai manga agli anime giapponesi fino ai supereroi della Marvel o ai classici della fantascienza e che abbraccia anche scenari medievali e universi immaginari È quello dei cosplay, settore in forte ascesa anche grazie a festival ed eventi sempre più partecipati Per quattro giorni 150 stand divisi per aree tematiche affolleranno l'Anfiteatro delle Cascine per la prima edizione del Firenze Cosplay Festival La sensazione è bellissima perché vivi in un mondo di favola praticamente quindi ti diverti, conosci amici eccetera è molto bello diciamo È molto bello perché è come se per un momento uscissi dalla realtà e ti travestissi da magari un personaggio che ti è sempre piaciuto per trasformarti È fondamentalmente per passione per passare un po' di tempo anche fuori con amici Bella sensazione Bella sensazione ti senti un'altra persona Sì è bello proprio perché puoi interpretare il personaggio che vuoi qualunque personaggio che dici magari non gli assomiglio ma ci puoi provare comunque e ti diverti un mondo Il festival nasce dalla collaborazione tra Ultravox e la festa dell'unicorno di Vinci e vede anche la presenza del gruppo sanitario COS con uno stand ispirato al Signore degli Anelli per trattare i disturbi dell'alimentazione come per esempio anoressia, bulimia e alimentazione incontrollata in un inedito parallelo con l'amatissima saga di Tolkien per un messaggio di sensibilizzazione e non solo Portando anche un messaggio di cura C'è una maschera che ti obbliga a stare in una condizione di dolore, di fastidio beh, devi sapere che c'è un gruppo un po' come la Compagnia dell'Anello se mi passate il paragone che ti viene in aiuto che è disposto a sostenerti in questo percorso in questo percorso di recupero di recupero che non è solo un recupero fisico ma un recupero psichico o un recupero sociale Grazie